buongiorno a tutti oggi è martedì si inizia una nuova settimana noi la iniziamo con la nostra arista con crema di carciofi appena infornata il nostro polpettone classico ma oggi è martedì quindi c'è anche la variante ormai questa parola entrata nel nostro lessico quotidiano la variante solo della nostra variante più buona perché con melanzane e provola eccola qua passiamo alla nostra prestissima tagliata stamattina è un'insalatina vista vedete con qualche pomodorino e qualche oliva bianca eccola qua lo so il 28 settembre ma il clima è ancora estivo nel frattempo anche il nostro cistiche in preparazione lo vedete pronti per la seconda parte dal fegato alla trippa passando per i nostri impanati le cotolette di vitellino concludiamo col maiale perugino prosciutto e costoletta pronti rilasci finale fegato trippa impanati cotolette di vitellino prosciutto di maiale tagliata con l'insalatina mista il nostro cistiche costoletta di maiale perugino hamburger al formaggio polpettone con la melanzane col pettone classico gli spirini le alette marinate polpette polpettine salsicce salsicce a punta di coltello ferrillo e provola siamo pronti su queste meravigliose note ci salutiamo una buona giornata a domani oggi si sente che è martedì ciao